In via Pitagora il parcheggio selvaggio è diventato ormai consuetudine. Le macchine vengono parcheggiate sopra i marciapiedi e i pedoni sono costrette a dover camminare in mezzo alla strada. Nel periodo scolastico la situazione a piano notario peggiora notevolmente. Gli automobilisti che transitano in via Pitagora nelle ore di punta sanno già che affronteranno un lungo calvario. Nelle ore di ingresso e uscita degli studenti si formano code chilometriche e le auto parcheggiate in modo sconsiderato rendono difficili le manovre a chi esce da un parcheggio. e impediscono il transito e la corretta viabilità. Ciò provoca quotidianamente anche diverbi e litigi tra genitori nervosi e residenti esasperati. Da questo piccolo incrocio che c'è al ridosso delle scuole la via Pitagora diventa una strada chiusa e puntualmente ogni giorno si crea un ingorgo che blocca i residenti per diverse ore, soprattutto nelle ore di punta scolastiche. Anche in questo quartiere della città la pulizia delle strade è notevolmente carente. I marciapiedi, già inutilizzabili a causa del parcheggio selvaggio, oltre ad essere sporchi delle feci degli animali, sono resi impraticabili anche da diversi cumuli di spazzatura, contenitori che vengono posizionati proprio al centro del passaggio pedonale e bidoni vandalizzati, distrutti e lasciati sul marciapiede. Inoltre, nelle aree verdi si stanno lentamente formando delle micro discariche, utilizzate sia dagli studenti che dagli automobilisti che transitano per la via. Per i residenti di via Pitagora la situazione è diventata ormai ingestibile.